Da oggi la metropolitana di Torino è dotata di defibrillatori. Sono stati posizionati nelle stazioni di Porta Susa, Porta Nuova, Lingotto e Fermi. Si tratta di defibrillatori semi-automatici acquistati grazie ad un avanzo di gestione. Un impegno che bisogna continuare perché tutti i luoghi dove c'è una grande affluenza del pubblico devono essere dotati di questa apparecchiatura che giustamente permette di salvare delle vite. A Ampas si occuperà dei corsi di formazione per volontari. Fino adesso in poco più di un anno abbiamo già formato oltre 3.300 persone, non solo i nostri volontari ma anche cittadini comuni, supermercati, agenzie, telecom, ha formato i suoi dipendenti perché tutti riconoscono l'importanza di avere un defibrillatore a portata di mano. Oggi la presenza qua a Porta Susa vuole proprio rimarcare questo, la presenza di metterli in tutti i posti di grande affluenza e per noi l'impegno a formare la gente.